Si tracciano linee guida comuni per i gestori di centri natatori, alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass. Ieri il confronto tra Asso Nuoto, Federazione Italiana Nuoto Regionale e le associazioni, da domani scatta il controllo del possesso di Green Pass per chi sopra i 12 anni svolge attività nelle piscine al coperto. Verifica che avverrà con un'applicazione con certificato da esibire su smartphone o in forma cartacea grazie al QR code. Esclusi dall'obbligo i frequentatori di piscine all'aperto e i ragazzi che svolgono attività dei centri estivi. Solo le certificazioni col QR code sono considerate valide perché sono le uniche che possono essere verificate con l'applicazione. Quindi altri tipi di certificati non servono a nulla, quindi bisogna avere questo tipo di documento per poter accedere all'impianto. Per chi non ha la certificazione del Green Pass ma ha fatto un tampone nelle 48 ore precedenti ha comunque questo QR code e quindi può essere abilitato l'accesso. Alla vigilia della novità vengono però messi in risalto dei paradossi come la non obbligatorietà alla vaccinazione di chi lavora negli impianti natatori. Chi controlla il Green Pass in sostanza non è obbligato ad averlo, oltre agli interrogativi sul futuro prossimo, quando con l'arrivo dell'autunno e la ripresa dei corsi le attività si terranno necessariamente al chiuso. E allora si chiede al governo di predisporre un modo più agile per snellire la procedura. Se ci fosse la possibilità intanto che venisse caricato su tessera sanitaria e quindi con un lettore di tessere sanitarie direttamente non acquisiamo nessun dato, non violiamo nessuna norma della privacy perché non incameriamo nessun dato, ma legge direttamente quella che è la situazione di presenza del Green Pass della persona che vuole accedere.